ciao a tutti da vostro lucio messina oggi video particolarissimo perché ci sarà una sfida tra me e un ospite speciale per vedere quante pizze riusciamo a mangiare insieme e magari vedere chi vincerà sicuramente vincerà l'altra persona comunque siamo da pizza club a varedo secondo me è una delle pizzerie a livello di giro pizza migliori della zona quindi mi raccomando state qui con me che ne vedremo delle belle a iscrivetevi al canale mi raccomando mettete un like e commentate il video allora siamo arrivati finalmente alla pizza club quindi seduti e vi presento l'ospite speciale ciao a tutti io sono fabio mi avete già visto sul canale di lucio sì sì sul mio canale già c'è c'è stato quindi sicuramente chi mi segue l'avrà già visto lui non mangia da una settimana 10 giorni anche quindi ci vediamo tra ben presto con tante pizze prima pizza la pizza ovviamente già finita perché mi sono dimenticato di mettere registrazione comunque la prima ciao allora amici secondo aggiornamento siamo 11 pizze lui 10 io ahimè sta vincendo proseguiamo proseguiamo anche perché dopo le pizze voi dovete sapere che in questo posto c'è anche il giro pizza ma quello dolce lo sapevi? ma me il dolce non è che preferisco il salato c'è la nutella che ne so il mascarpone sulla pizza preferisco il salato quindi andiamo avanti dunque con questa pizza qui siamo a 12 pari perché io ho superato superato di uno e quindi siamo in pareggio allora amici siamo arrivati alla fine diciamo delle pizze salato diciamo giusto? di il tuo risultato 20 21 21 e il mio 19 il mio 19 però adesso ci sarà il giro pizza dolce come vi dicevo prima io non sono pronto sul dolce non sono preparato non mi sono allenato sul dolce e quindi adesso vedremo se riuscirò a raggiungerlo vediamo ma penso di no vediamo vedremo vedremo chi vivrà vedrà diciamo se non moriamo qua subito sul tavolo bene amici siamo arrivati al finale in teoria dovrebbero essere 22 22 ovviamente dovrò rivedere il video perché mi devo riservare di capire è passata troppa roba da se è tutto giusto troppa roba però secondo me siamo pari si pareggio 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 ha mangiato di brutto bevuto di brutto e adesso ci faremo una bella una domanda gastrica no 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 ci facciamo una bella ce l'hai la bicicletta? andiamo a piedi da Varedo a San Giovanni ok allora adesso da Varedo a San Giovanni a piedi così smaltiamo smaltiamo così smaltiamo tutti va bene che a questo punto non ci resta che salutarli ciao ragazzi alla prossima sfida ciao a tutti dal vostro ciumessina e dal vostro non ci sarà il prossimo video ma chi lo sa vediamo faremo una gara di sono imprevedibile imprevedibile ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti